Il Caffè Letterario, situato all'interno di Buonissimo Incorso Mameli, è la nuova sede dell'Associazione Arnaldo da Brescia. Dopo il grande successo delle prime tre rassegne, Brixia Mirabilis, Brescia Meravigliosa e Autori Bresciani, l'Associazione torna nell'Arcipelago del Gusto per un nuovo ciclo di incontri che intratterrà i Bresciani negli ultimi pomeriggi prima dell'estate. Protagonista degli incontri ovviamente è la nostra città, con la novità che gli incontri tratterranno non soltanto di storia ed architettura, ma anche di cinema, cucine e canzone. Sono nove incontri che spaziano dall'arte alla cultura, alla letteratura, all'archeologia e in questo caso abbiamo inserito anche il cinema, la cucina, la storia del volo a Brescia che è una cosa molto particolare, poi un incontro con un attore e la presentazione di due libri, oltre alla musica bresciana, quindi un bel panorama molto variegato. Parliamo di Brescia, vedrà il suo primo incontro questo mercoledì 2 maggio alle 18 e proseguirà poi per 8 martedì, l'ultimo il 26 giugno. Per il programma completo è possibile visitare il sito www.arnaldodabrescia.com Le precedenti serie sono state veramente molto seguite, abbiamo sempre avuto, come dire, il tutto esaurito, bisognava aggiungere le sedie, veramente è stata una grandissima soddisfazione e quindi noi speriamo che anche in questo caso i bresciani vengano, ritornino in questo spazio che è proprio uno spazio perfetto, un caffè letterario ideale per questi incontri. Grazie.